facebook 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 potete trovarmi su facebook la pagina è stata creata per aiutarvi a contattarmi se desiderate chiedermi il tutorial di un origami in particolare o se volete sapere notizie in anticipo scoprire novità e parlare di boiate non sottoministrare sotto i 12 anni ah e c'è anche twitter se volete